Cari amici che siete all'ascolto, un caro saluto da Fabrizio Gagnor che vi parla del Cufrad insieme con coloro che sono presenti con me questa sera per questo incontro con tutti voi. Questa sera all'interno della trasmissione sui problemi e del disagio ci soffermiamo sui disturbi dell'alimentazione. Che cosa sono? Come insorgono? Cosa si può fare? Per affrontarli? Ne parliamo perché vedremo insieme che sono correlati a un insieme di malessere e di mal di vivere di cui ordinariamente parliamo in questa trasmissione e perciò ha senso parlare di disturbi dell'alimentazione perché vedremo insieme che fanno parte di un tutt'uno. Ce ne parleranno i nostri ospiti, questa sera abbiamo con noi la dottoressa Anna Foglia psicologa e psicoterapeuta e la dottoressa Francesca Paola Maioli psicologa e poi ce ne parlerà anche la signora Chiara che questa sera porterà la propria testimonianza e ci è un'altra cosa che è un'altra cosa che è un'altra cosa che è un'altra cosa che è anche come sono stati correlati al problema della dipendenza da alcol, come hanno influito nella sua vita e nella vita della sua famiglia. Allora entriamo nel merito della tematica di questa sera. abbiamo detto che cosa sono, come nascono e vedremo che influiscono sull'insorgenza, sulla nascita dei disturbi dell'alimentazione sia componenti della società, sia componenti della famiglia, sia fattori individuali e tutti questi vari elementi si mescolano l'un l'altro, non c'è una situazione soltanto influenzata da un unico elemento e proviamo perciò a vederlo. Vorrei iniziare con voi cari amici nel presentarvi questo studio della dottoressa Anna Fizzotti che è pubblicato su psicologiitalia.it ma lo trovate anche già sul nostro sito alcolnews.it sul quotidiano online che potete consultare e ricevere anche quotidianamente sul vostro computer o sul vostro smartphone facendo l'iscrizione, ecco quindi alcolnews.it, allora lì potete ricevere tutti i giorni il quotidiano online e trovate anche questo studio che viene pubblicato oggi. Ebbene vorrei iniziare con questa frase di Fabiola de Klerk che diceva così, gli occhi di chi ha visto, esplorato gli abissi, grigi abissi della malinconia, della depressione, dell'anoressia della bulimia, che occhi può avere una persona così, che ha sperimentato, toccato, piombata nella malinconia, nella depressione, nell'anoressia della bulimia di cui parliamo stasera, quegli occhi sapranno vedere e godere di tutti i colori del mondo. per dirci che chi cade in quegli abissi perde il colore di tutto e si ritorna a vedere le cose. Un'altra metafora è quella della caverna buia, nella caverna buia dove si è immersi, se una persona riesce a spezzare le catene del gioco che lo teneva soggiogato e incatenato nella caverna buia, vi ricordate questi miti antichi, ma in verità esce fuori e vede la luce, ma è proprio vero, perché in realtà quando una persona esce fuori e arriva a vedere la luce, nulla è più come prima. Per iniziare bene questo nostro incontro pensate agli apostoli che facevano i pescatori e andava benissimo a fare i pescatori, non avevano mai visto una luce diversa, ma da quando hanno incontrato il Signore Gesù e due di essi, vi ricordate, dopo il battesimo con Giovanni Battista nel Giordano, Giovanni Battista ha detto è lui che dovete seguire, allora sono andati dietro di lui, vi ricordate, e gli hanno detto il Signore si è voltato, dice che cosa cercate? Non le ha detto chi cercate, ma che cosa? Guardate che questo è importante nella vita di ognuno di noi, che cosa cerchiamo? No? Cosa cerchiamo nella vita? Che cosa cercate? Ed essi non sapevano più cosa dirgli, e gli hanno detto, Signore dove abiti? Non sapevano cos'altro dire, fatto sta che andarono con lui, e quel pomeriggio rimasero con lui, ma hanno incontrato la luce, la potenza di luce che usciva dalla vita del Signore Gesù, da quel momento la loro vita non è mai più stata come prima, loro si ricordano, lo scrivono nel Vangelo, ricorda, erano le quattro del pomeriggio quando hanno incontrato Gesù, pensate quando è l'incontro della tua vita, ci sono delle persone che ricordano ancora, quando hanno fatto un incontro importantissimo, dico io mi ricordo, eravamo là, ed era quell'ora del pomeriggio, la situazione era quella, gli apostoli dicono erano le quattro del pomeriggio, si ricordano, si ricorderanno per sempre, e poi che succede? Che il Signore Gesù, lo ricordate, si allontana nel deserto per questo tempo lungo di preparazione, di stare con la natura divina di cui era riempito col padre, diciamo così, ebbene, e quando lo rivedranno, quando Gesù ritorna, e sarà il momento in cui il Signore li vede che rassettano le reti, erano ritornati a pescare, andava benissimo pescare, no? Andava bene, facevano un lavoro onesto, ma avevano sperimentato la luce, che cosa? Che cosa è per chiunque nella propria vita viene aiutato, e di questo ci parleranno le psicologhe questa sera, da qualche persona esperta in umanità a fare un percorso introspettivo e a fare pulizia, no? A togliere tutte le sporcizie che ognuno porta dentro di sé, e riuscire a rivedere la luce, e dobbiamo dire la verità, no? Non possiamo immaginarci che sia sufficiente totalmente l'aiuto di un bravo psicologo, psicoterapeuta, la psicoterapeuta Anna Foglia ce ne parlerà tra poco, per arrivare a vedere la luce, pensiamo davvero che la luce piena della vita stia un pochino più in alto, però almeno ci si prova, no? Almeno a livello umano, con le persone esperte in umanità ci si prova, a togliere via, a fare pulizia, a togliere le conseguenze dei condizionamenti della vita, tutto questo. Ebbene, ritorniamo ai nostri apostoli, avevano visto la luce, avevano visto la luce, e da quel momento nulla era più stato come prima, facevano un bel lavoro onesto, andavano a pescare, ma quando erano lì a rassettare le reti passo al Signore Gesù lo vedono e si illuminano. E' quello il motivo per cui il Signore Gesù può in quel momento dire, venite con me, venite con me, ed è per questo che essi subito lasciate le reti e la barca hanno potuto prendere, allontanarsi e seguirlo. scendiamo dalle vette e ritorniamo a noi, ma perché qui si parte, dalle cose basse innanzitutto dobbiamo guardare in alto, poi ci guardiamo allo specchio e diciamo, oh povero me, oh povero me, come sono messo male, e allora ci viene moglie di migliorarci e cerchiamo qualcuno che ci aiuti, qualche persona esperta in umanità, che ci aiuta a fare un po' di pulizia. Stasera le nostre pulizie partono da questo concetto, da questo punto, cerchiamo di capire perché, da dove vengono questi disturbi dell'alimentazione che coinvolgono più persone di quelle che noi ci immaginiamo. Allora, velocemente perché poi non riusciamo a presentare completamente la tematica, dunque che cosa sono? Sono delle patologie che associano degli elementi di carattere psicologico e degli elementi fisici, mangiare troppo poco o troppo, diciamola così, ma che cosa vuol dire? Che la sofferenza psicologica della persona agisce sui comportamenti legati all'alimentazione, influisce. Sono tre, in particolare i disturbi dell'alimentazione di cui ci si occupa, la anoressia nervosa, la bulimia nervosa e poi i disturbi dell'alimentazione atipici, in particolare il disturbo da alimentazione incontrollata. Dunque, proviamo a vederli uno per uno. Il disturbo della anoressia. Succede che la persona ha una importante perdita di peso. Quanto? Pesa meno dell'85% del peso standard, così ci dice questo studio che vi sto presentando. E che cosa succede? Quella persona ha una costante paura di ingrassare, sempre angosciata. Il comportamento alimentare, come avviene perciò in queste persone? O assume pochissime calorie, praticamente non mangia, mangia pochissimo, quindi atteggiamento restrittivo. Ma attenzione che ci sono le persone che soffrono di anoressia, che anche fanno delle cose che forse per qualcuno di voi suonano strane. Cioè fanno delle abbuffate e poi dopo cercano di eliminare. Come lo fanno? Ma nel modo meno malato, attraverso sport sfrenato, ma vomito, autoindotto, lassativi, diuretici. Questo è il problema dell'anoressia. Parliamo della bulimia. La persona che soffre di questo problema, poi vedremo perché ne soffre, adesso stiamo vedendo che cos'è. Compie abbuffate ricorrenti. la sua costante preoccupazione per il peso e per le forme corporee. Quindi che cosa succede? Che può avere o meno comportamenti di compenso o di eliminazione come quelli della anoressia, però normalmente il peso è nella norma o leggermente superiore. In sintesi, la caratteristica è che compie delle abbuffate. Sentite già nelle vostre orecchie che ha bisogno di riempire dei vuoti, no? Se deve riempirli in questo modo, facendo una abbuffata. È intuitivo, no? Ma poi ci sono invece quelli che hanno il disturbo da alimentazione incontrollata. Queste qui sono persone che sono in forte sovrappeso, fanno le abbuffate, non hanno nessun atteggiamento di eliminazione come invece nel caso di chi soffre di anoressia e hanno una profonda sofferenza emotiva e quindi vedete che cominciamo un po' ad addentrarci nelle cause. C'è una sofferenza emotiva grave e quindi per superare la sofferenza vedete che c'è bisogno non solo di un intervento medico, ma anche di un aiuto psicologico per liberarsi da questi lacci. Allora, seconda parte, come nascono? Su questa parte vi ho detto che parliamo di tre elementi della società, della famiglia e poi degli aspetti specificamente invece individuali. Quindi questi disturbi dell'alimentazione sono un disturbo si chiama biopsico-sociale, è biologico, psicologico e sociale. Nessun fattore da solo, quindi biologico oppure psicologico oppure sociale, da solo è sufficiente per creare un disturbo dell'alimentazione, ma più numerosi sono i fattori presenti, più grande è la probabilità che quella persona sviluppi questo disturbo. Proviamo a dire in un altro modo, gli elementi, i fattori che adesso vi elenco, i fattori sociali, i fattori familiari, i fattori biologici preparano il terreno perché la persona con i vuoti da riempire oppure col non sentirsi adeguata alle situazioni, non sentirsi a posto, non piacersi, non corrispondere a quello che pensa che gli altri si aspettino da lei e via dicendo. Cosa succede? Che messe insieme queste situazioni si crea un terreno in quella persona, caratteristiche psicologiche che scatenano poi questi comportamenti, vedete perciò cari ascoltatori che sono proprio delle situazioni vicine, tanto vicine ai comportamenti di dipendenza di cui sempre parliamo. Andiamo avanti e ci chiediamo ma cosa c'entra la società in una persona che soffre di questi disturbi, ci chiediamo ma la società cosa c'entra? Ebbene, per l'obesità la società, proviamo ad andare, ognuno provi ad andare avanti rispetto a quello che vi dico, per l'obesità la società, qual è la causa della società? Beh le pubblicità, l'enorme disponibilità di cibo legata al benessere economico, cosa per l'obesità viene fornito dalla società l'oggetto, cioè il cibo, l'oggetto dell'azione incontrollata, mangiare, mangiare, poi cosa aggiungiamo? La vita sedentaria che si fa in ufficio normalmente dentro il lavoro, porta al mantenimento del sovrappeso, ma quindi nella obesità, vedete, non è che sia specificamente la società che è un fattore del disturbo, la società con la pubblicità fornisce il cibo, ma invece per l'anoressia e per la bulimia diventa importante l'influenza della società, diventa centrale proprio nella scelta che le persone fanno di diventarlo, anoressici o bulimici, mi capite? La differenza è importante, no? L'abbiamo imparato una cosa importante stasera, l'obeso è una persona che mangia tanto perché c'è tanta pubblicità, mangia tanto, si muove poco e è chiuso lì, ha un sacco di mali fisici causati dal sovrappeso, invece l'altra persona che soffre di quel disturbo che diventa una patologia è perché lo sceglie inconsapevolmente sovente, lo sceglie, se non viene aiutato, non riesce a entrare a capire quali sono le cause, la radice, vi ricordate la precedente trasmissione, vi parlavo dell'albero, no? Della radice e poi dei frutti, se i frutti sono cattivi, se sono malati e poco serve strappare via i frutti malati e disperarsi perché uno dice come sono peccatore o come sono cattivo, guarda che brutti frutti che porta l'albero della mia vita e poi magari è come dice Papa Francesco parlando dei corrotti o come diceva nel Vangelo Signore Gesù, guai a voi scrive farisei, ipocriti che imponete agli altri dei pesi che voi non portate neanche con un dito, magari uno toglie i frutti cattivi e poi dopo ci mette dei frutti di plastica per far vedere che lui è, no? In realtà il problema sta nel fatto di guarire l'albero dalla radice e questo è il punto ed è quello che le persone vengono quando per i problemi delle dipendenze, dei comportamenti di dipendenza vengono a curarsi nei centri del Kufrel, no? Perché nel nostro caso una persona si accorge che i frutti della sua vita sono sempre brutti, pessimi e disperato, dice ma come è possibile che questa vita porta tutti i frutti brutti così? Ma non riesce a capire come faccio a guarire la pianta? Magari uno intuisce e dice ma qui c'è la pianta che è malata, cioè sta dando frutti malati e come faccio? Eh? Come faccio? Allora c'è bisogno di qualcuno che accompagni la persona a scendere giù dai frutti, passa dai rami, scende giù nel tronco, arriva alla radice e lì lavora su quello che, vi dicevo la volta precedente, possiamo chiamare il peccato che sta all'origine di tutti i peccati, no? Le conseguenze del deposito genetico, dei condizionamenti sociali, ambientali, relazionali, quello che ci hanno inculcato, le ferite della vita, tutte le volte che uno ha fatto delle prove per fidarsi e poi è stato deluso, allora tutto questo insieme di cose porta a stare così male che uno cerca di difendersi e si difende malamente con i meccanismi di fuga o di lotta. Ecco, allora andiamo avanti su questo punto, stiamo parlando di queste patologie, la persona che quindi decide di reagire senza capire esattamente la causa, eravamo arrivati qui, a una situazione devastante della propria vita, reagisce o rinunciando a mangiare perché vuole apparire, vuole accondiscendere, vuole, no? Oppure facendosi le abbuffate perché vuole riempire un vuoto, proviamo a vederlo un pochino più nel dettaglio, nei 3-4 minuti che rimangono poi lasceremo spazio ai nostri ospiti. Le radici sociali, stavamo dicendo, di questo crescere dell'anoressia e della bulimia, fanno riferimento alla sofferenza di base e la sofferenza di base, il profondo senso di inadeguatezza. Perciò vedete che quando si parla di anoressia parliamo sovente di disturbi che fanno riferimento alle giovani donne, le persone si sentono di non essere adeguate, sentono un difetto in se stesse e perciò nel nel momento in cui vivono la sofferenza di base, cercano un sollievo nel cercare di ribaltare questa costellazione di sentimenti negativi facendo qualcosa, capite? Di contrario, per smuovere le cose. riassumo. C'è una costellazione di sentimenti negativi, non sentirsi a posto, non sentirsi gradevoli, non accondiscendere alle attese degli altri, non sentirsi sufficienti nella vita. E che faccio? Allora dicono, io mi sento sollevata se faccio una qualche azione che mi consenta di controllare. L'aspetto centrale nei disturbi dell'alimentazione fa riferimento alla parola chiave del controllo. Vuol dire cosa? Siccome c'è un malessere generico, so che non sto bene, non mi piaccio, non va bene, ma cosa c'è che non va? Un malessere generico, allora comincio da qualche parte. Allora, da che parte comincio? Capite il ragionamento. Da dove comincio? Comincio dal corpo. Eh, ma peso troppo, ho le cosce troppo grosse, allora qui bisogna fare qualche cosa. La persona che è depressa, attuando questo tipo di comportamento malato, ne ottiene, ci dice questo studio che vi sto presentando, un effetto antidepressivo dall'esperienza che sta facendo. Io mi sento insoddisfatta di me. Cosa posso fare per piacere agli altri e per piacere a me stessa? Allora, siccome, eccolo la società, trasmette l'idea che è magro e bello, allora vuole dire che se faccio quello potrò piacere. È un qualcosa di concreto su cui posso agire e che socialmente è apprezzato. Ecco, e poi due minuti ancora prima di chiudere per accennare al ruolo della famiglia, ma in realtà vi ho già parlato di questo e poi più dettagliatamente ascolteremo gli esempi che ci vengono portati questa sera dalla dottoressa Foglia e dalla dottoressa Maioli. Dunque, la famiglia è la più influente di tutte nella vita dell'individuo. Chi intendiamo per famiglia, meglio dirlo, è di questi tempi, insomma, a parte gli scherzi, però quando parliamo di famiglia si parla ancora di genitori, nonni, fratelli, parenti, coniugi, cioè quelle persone che hanno una maggiore influenza nel passato e nel presente nella vita dell'individuo, quelli che gravitano più vicino, quelli che vivono nello stesso tetto, diciamo così, e influisce molto, molto, molto nello sviluppo oppure anche sulla prevenzione dei disturbi alimentari. Come influisce? L'ambiente in cui si vive fornisce i valori, gli atteggiamenti, i comportamenti che nel nucleo familiare vengono modellati e rinforzati. Proviamo a vederne alcuni dei fattori familiari che influiscono sullo sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare. Primo fattore, la mancanza di comunicazione sana delle emozioni. Vuol dire che deve esserci una comunicazione autentica dentro le famiglie. ci sono molte famiglie in cui si parla poco, le emozioni non si sfogano, ci si vergogna e man mano che questi sentimenti, queste frustrazioni si accumulano, la persona che si sente così schiacciata, che ha tante emozioni, ma non le esprime. Non le esprime. Noi abbiamo conosciuto tante persone, ce ne parleranno i nostri ospiti forse anche stasera, di persone che hanno detto io ho mai dato un bacio a mio papà, non l'ho mai abbracciato. No? Mio papà non mi ha mai abbracciato. Abbiamo sentito dire tante volte, adesso faccio un esempio, ma è uno che poi andate avanti voi con gli altri esempi. Ci sono delle persone che covano dentro questo senso di inadeguatezza. Faccio l'esempio. Ma se non mi abbraccia vuol dire che io sono cattivo, vuol dire che non sono buono, vuol dire invece l'altro magari è soltanto perché non ha il coraggio, si vergogna, non è cresciuto in un'apertura emotiva e affettiva. Un altro fattore, quando i genitori o comunque le persone, i componenti del nucleo familiare danno alla bellezza fisica un'importanza eccessiva. Quante parole, quante parole inutili. no? Oh, guarda, magari guardano la televisione, guarda quella lì che bel tipo, no? Invece guarda tu, sei un po' grassoccia, no? Banalizzo, cari ascoltatori, le cose sono molto più complesse, ma così ci facciamo qualche esempio e ci facciamo un'idea. Una mamma che si pesa ogni mattina, o che si è ingrassata di un chilo, va in famiglia e dice, oh adesso c'è la torta, no, 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 io no, perché sono ingrassata. Che messaggio lascia quella persona? I figli per rispondere alle aspettative dei genitori si adeguano, si adeguano. Allora dice, beh, se fa così la mamma, allora io che devo fare? Un altro elemento ancora è il perpetuare la sindrome della brava ragazza e quindi quella che i genitori desiderano che sia. Allora vedete che è tutta una persona costruita. Allora, ci sono tre tipologie familiari più comuni. La famiglia perfetta, la famiglia iperprotettiva e la famiglia caotica. Che cos'è la famiglia perfetta? È quella che nega il fatto che ci siano dei problemi in famiglia e invece i problemi li hanno tutti. Una persona sana non è quella che non ha problemi, ma è quella che riesce a imparare a gestire con equilibrio i normali problemi della vita. Quando si fa finta che i problemi non ci siano, si costringono le persone più deboli, più fragili a diventare artificiali, finti, di plastica. La persona mette delle protesi mentali dentro la propria vita e non riesce ad essere autentica. Allora anche il suo corpo dovrà essere una bambola, invece che essere quella che è. La famiglia iperprotettiva, quelli che non hanno fiducia nelle capacità degli altri membri di riuscire a farcela. Devo esserci io, e deve essersi sempre… Ma non vi accorgete, cari ascoltatori, io ne ho viste diverse famiglie, che hanno i figli, ma anche grandi, anche nel liceo, che se devono fare qualche cosa, ma è strano, si alza subito il papà o la mamma e lo fa al posto del ragazzo. Ma lascia che faccia, no? Perché lo sostituisci? È iperprotettivo, quello non imparerà mai a sbrogliarsela. Oppure che in casa fanno niente, o fanno poco e niente, non vengono cresciuti a prendersi le responsabilità, ma comincia in casa, no? Invece, purché non abbia problemi, purché… No, allora non li si fa fare nulla, magari vanno ancora a iscriverli al liceo o a iscriverli all'università, eh? Faccio una battuta, però può darsi che ci siano ancora addirittura delle situazioni così al tempo d'oggi, è un pochino strano il tempo d'oggi, eh? La famiglia è iperprotettiva. Ma poi, pensate, terzo elemento, e chiudo, la famiglia caotica. E allora la famiglia caotica, si capisce, l'alimentazione incontrollata è l'unica valvola di sfogo che l'adolescente ha, cerca di compensare in questo modo, controllando almeno il cibo, il peso corporeo rispetto a tutte le cose che non riesce e non può più controllare. Mi fermo qui, ascoltiamo i nostri ospiti, inizia la psicologa dottoressa Francesca Paola Maioli. Buonasera, allora speriamo che con questa trasmissione si possa aiutare un po' di più le persone che ci stanno ascoltando. Io vorrei iniziare a parlarvi di una paziente, di un caso che abbiamo seguito, proprio perché sono sicura che parlando della sofferenza che queste pazienti vivono, si riesce a toccare un po' di più cosa significa realmente soffrire di un disturbo del comportamento alimentare. Allora, questa paziente era una ragazza giovanissima di 22 anni. Pensate, i suoi racconti erano unicamente incentrati sul cibo, di come lei sminuzzava gli alimenti prima di mangiarli, del tempo che impiegava per mangiarli, delle calorie assunte, dell'attività fisica che poi faceva per bruciare queste calorie. I suoi racconti però erano caratterizzati da un'assenza di emozioni. Lei a volte parlava di una mamma assente. Fin da piccolina sua mamma è sempre stata presa dal lavoro. Lei quasi era un peso. Crescendo poi durante l'adolescenza, questa ragazza non era mai abbastanza, non si sentiva mai approvata e forse ricordava con rimpianto il tempo infantile in cui almeno poteva stare tra le braccia di una mamma comunque assente. In questo senso ha iniziato a colpire il suo corpo per non farlo crescere, per essere sempre la bambina che forse un tempo era amata dalla mamma. Quindi nei suoi racconti compariva questa mamma che le diceva, ma no così comunque non va bene, non sei abbastanza. Io proverei una rabbia fortissima verso una mamma così. In realtà questa ragazza era incapace di provare qualsiasi emozione e rivolgeva verso se stessa tutto quello che provava. Ad un certo punto la cosa che colpiva maggiormente è che tutto l'ambiente familiare era un po' malato, appunto come dicevamo prima, perché nessuno si è accorto in tempo che questa ragazza soffriva in questo modo. Questa è un po' infatti la beffa di questi disturbi. Io non li chiamerei una vera e propria psicopatologia, sono il sintomo di una sofferenza interna molto profonda e questa sofferenza può prendere tante strade. Quella del comportamento alimentare purtroppo è una di queste. La famiglia si accorta che c'era qualcosa che non andava quando questa ragazza ha raggiunto un peso corporeo di 37 kg, ormai non si alimentava più ed è stato necessario appunto un ricovero coatto. Questa ragazza poi aveva incominciato a fare uso di sostanze. Inizialmente erano sostanze anoressizzanti che comunque non le permettevano di provare la stanchezza che un corpo così fragile prova per svolgere qualsiasi attività. Infatti vorrei parlare di un aspetto importantissimo che a volte viene sottovalutato. C'è infatti una stretta correlazione tra i disturbi del comportamento alimentare e i disturbi da sostanze e questo aggrava ancora di più la situazione. In entrambi i casi infatti ci troviamo, molti autori parlano di un disturbo da bisogno anomalo. Queste persone infatti, come è appunto il caso della ragazza appena descritto, hanno dentro di sé un vuoto. Nel corso della loro vita non sono riusciti ad interiorizzare un oggetto buono a cui aggrapparsi, a cui fare riferimento dentro di sé nei momenti di difficoltà. Avendo questo vuoto dentro di sé, ricercano nel cibo da una parte, nelle sostanze dall'altro qualcosa di gratificante, un piacere che però è effimero. Un'altra analogia molto importante è che in entrambe queste patologie ci troviamo di fronte anche ad aspetti depressivi. Si parla appunto di una regressione depressiva. Pensiamo appunto a questa ragazza come lei desiderava essere una bambina, quindi si regredisce ad uno stadio primitivo. C'è poi in molti di questi disturbi, c'è comunque una patologia legata alla ricerca del cibo che come abbiamo visto influenza pervasivamente tutta la vita di questi pazienti. I pazienti che appunto soffrono di un disturbo del comportamento alimentare, così come quelli che soffrono di abuso di sostanze e alcolismo, incentrano la loro vita sul cibo, sulla ricerca del cibo, sull'utilizzo, sul controllo, sullo smaltimento, così come si ha la ricerca della sostanza o dell'alcol. Infatti si parla di una tossicomania alimentare. Da una parte quindi l'oggetto tossicofilico è il cibo, dall'altra parte invece è la sostanza. Questo per farci capire che il quadro è abbastanza complesso, non è semplice. Un aspetto poi proprio della personalità di questi pazienti che rende difficile anche il trattamento che poi vedremo è la quasi assenza di consapevolezza della propria patologia. Abbiamo visto appunto che per questa ragazza si è dovuto far ricorso ad un trattamento sanitario obbligatorio e quindi ci chiediamo come è possibile che prima non si sia effettuato un intervento. Bene, queste persone difficilmente chiedono aiuto e abbiamo visto che a volte le famiglie sono anche problematiche, non si rendono conto di quello che sta succedendo ai propri figli. C'è quindi bisogno veramente di un aiuto a 360 gradi, cioè le persone che si rendono conto che magari i propri amici, amici dei propri figli c'è qualcosa che non va, bisogna subito aiutarli, parlare e cercare di far capire che un aiuto è possibile che li faccia stare meglio. Appunto per quanto riguarda il trattamento, nel momento in cui un paziente riesce a capire che è il momento di chiedere aiuto, sicuramente un tempo attraverso un trattamento residenziale è l'ideale. Infatti portare la persona che soffre di un disturbo del comportamento alimentare fuori il proprio contesto familiare, farlo vivere in un altro ambiente, rieducarlo di nuovo ad una vita sana è un aspetto importantissimo perché può insegnare appunto a rieducare il rapporto con il cibo ma soprattutto il rapporto con se stessi perché un altro aspetto che purtroppo caratterizza questi problemi e anche la gravità è quello che c'è un disturbo dell'immagine di sé, dell'immagine del corpo e in alcuni casi si arriva ad una vera e propria dismorfofobia e quindi parti del corpo vengono percepiti come sproporzionate rispetto alle altre. In questo caso siamo di fronte ad aspetti quasi di deliri verso il proprio corpo per cui un aspetto farmacologico, un aiuto farmacologico, l'aiuto di esperti in condizione appunto residenziale permette a queste persone di ritrovare una nuova pace. Grazie. Grazie dottoressa Maioli e cari amici adesso ascoltiamo la psicoterapeuta dottoressa Anna Foglia ma vi ricordo scrivete le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri pareri al 331-791-4523 per i vostri messaggi con i vostri smartphone scrivete al 331-791-4523 oppure col computer scrivete a diretta chiocciola radiomatter.org e per le vostre telefonate potete telefonare alla diretta di radiomatter 031-64-6000. Ecco ripeto il numero da fare per i vostri messaggi che sono sempre una componente importante della trasmissione allora scrivete al 331-791-4523. Ascoltiamo la psicoterapeuta dottoressa Anna Foglia. Buonasera a tutti gli ascoltatori, io volevo focalizzare l'attenzione per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare e soprattutto sui fattori individuali perché come è già stato detto in precedenza sia il fattore della società sia il fattore ambientale sono tutti assolutamente importanti, anche la famiglia come è stato detto largamente in precedenza ha la sua valenza assolutamente positiva e assolutamente patologica e importante. Io appunto volevo considerare, volevo fare un accenno a questa grandissima scarsa autostima che regna e che vive all'interno di queste persone. Scarsa autostima cosa vuol dire? Vuol dire che l'individuo non si piace, la ragazza anoressica o bulimica o obesa si focalizza per la maggior parte sulla persona fisica ma è in realtà il suo non piacere e il non piacere rispetto a una persona interiore, rispetto a un qualche problema come è stato detto in precedenza che nasce, che è radicato nel suo profondo. Questa è un'insoddisfazione profonda, generica che viene controllata e condivisa nel momento in cui la persona in questione, la paziente che ha problemi appunto con il comportamento alimentare condivide il suo problema con altre persone professionalmente preparate. C'è da dire che persone con problemi del comportamento alimentare hanno anche un scarso deficit di consapevolezza quindi riescono a malapena e con assoluta incapacità a identificare accuratamente e a dare un nome, a rispondere alle proprie emozioni. Tendenzialmente, così come è stato detto in precedenza, le ragazze, le persone che hanno problemi di disturbo alimentare non sono state abituate a condividere e a riconoscere soprattutto in famiglia, perché ricordiamo che il primo agente educativo è appunto la famiglia le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Questa è appunto da reputare una mancanza appunto alla famiglia o forse perché la famiglia in questione era troppo iperprotettiva o forse era troppo assente perché come si diceva prima le famiglie attuali e la maggior parte dei casi di persone con questa patologia in questo momento vivono situazioni familiari in cui appunto ahimè la famiglia è mancante quindi devono crescere e abituare a vivere con se stesse e a riconoscere e a dare un giusto nome a queste emozioni e a confrontarsi con il mondo esterno. Confrontarsi con il mondo esterno che richiede oggi più che mai queste diverse caratteristiche, magro e bello, l'obesità e quant'altro e brutto, consideriamo come detto in precedenza, la società che ci fornisce il cibo e l'anoressica che segue le pubblicità delle donne dove la magrezza è l'assoluto agente principale. Le persone, così come ha detto la collega in precedenza, con disturbo del comportamento alimentare sono persone che hanno molta attinenza con persone con problemi di dipendenza. In entrambi i casi, qua anche in struttura lo vediamo la maggior parte delle volte, abbiamo un ego che deve essere rinforzato deve essere insegnato loro a bloccare questi comportamenti, in questo caso alimentari oppure nei confronti della sostanza devono imparare a sedare questi loro impulsi perché ricordiamoci che queste persone hanno un comportamento un modo che tende al perfezionismo, un loro mondo funziona in due versanti, o tutto o nulla sia per quanto riguarda le persone con problemi di disturbi del comportamento alimentare sia per persone con problemi di droga oppure sostanze alcoliche. In entrambi i casi, abbiamo anche qui pazienti che ci fanno esempio quotidianamente, sono persone che si aiutano con un trattamento psicologico che va a sondare la loro vita interiore, vanno supportati per cercare di riempire le mancanze soprattutto familiari che sono state carenti sin dai primi anni di età perché ricordiamoci che questi problemi del comportamento alimentare che poi possono sfociare in problemi con sostanze di droga o alcol hanno le loro radici sin dalla tenera età. Così come si diceva prima, sia per una mancanza di famiglia quindi la mancanza di norme, di regole che vengono dettate dall'inizio, sia per tutto il discorso di mancanza e di influsso della società e del mondo esterno. Il trattamento che facciamo anche qui in struttura è più che altro volto all'ascolto e al, come diceva prima Fabrizio, buttiamo fuori le cose che ci zavorrano al passato e cerchiamo di dare una giusta spiegazione per poter andare avanti, ripartire e cercare di rinnovarci e di regalarci una nuova vita nella speranza e con un peso migliore. Grazie dottoressa Foglia, cari amici vi ricordo scrivete le vostre considerazioni, le vostre domande le psicologhe sono disponibili qui per tutti voi, scrivete al 331-791-4523 oppure a diretta chiocciolaradiomater.org per le vostre telefonate 031-64-60-00 vi anticipo anche che potete risentire la trasmissione se non avete potuto scuattarla tutta o se vi fa piacere risentirla, è sufficiente che voi inviate una email dicendo vorrei ricevere la trasmissione all'indirizzo info-cufrad.it in modo tale che noi fin da domani mattina potremo inoltrarvi il link al quale voi potrete ascoltare e riascoltare la trasmissione e anche le precedenti. È arrivata già una domanda che ci dice quanto segue, ci scrive Sandra buonasera, tempo fa ha fatto discutere una pubblicità che mostrava una ex modella ridotta pelle e ossa per combattere il dramma dell'anoressia, la cosa che più mi ha colpito è che le immagini cercavano di mostrare il lato bello anche di questa situazione, mi chiedo perché questi problemi non si risolvono con una comunicazione sociale seria, perché oggi si misurano le persone in questo modo? Ecco ascoltiamo la risposta ai nostri ospiti e subito dopo ascolteremo anche la testimonianza della signora Chiara che qui con noi ci parlerà proprio della propria esperienza legata al problema del disturbo alimentare e correlato al problema della dipendenza da Algo. Ringraziamo Sandra per questa domanda, sicuramente la società non ci aiuta in questo momento a combattere questi disturbi, dagli anni 60 in poi infatti è esploso il boom del magro e bello, sicuramente i canoni estetici fanno leva soprattutto sugli adolescenti che non si piacciono e che cercano di raggiungere standard per essere accettati dal gruppo di pari e dall'altro sociale, se però purtroppo la società in cui vengono regole economiche che purtroppo per noi è difficile combattere, possiamo lavorare sugli altri aspetti che possono migliorare la vita di queste persone, quindi gli aspetti familiari e gli aspetti individuali, perché è vero sì che la società è fatta in un certo modo, ma se noi riusciamo a trovare una identificazione, una pace, una serenità nella famiglia che ci accoglie e dentro di noi, sicuramente avremo più possibilità di discernere immagini e messaggi che vediamo all'esterno. Ascoltiamo la signora Chiara che ci porta la sua testimonianza. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 52 anni, sono alcolista da 25 anni e diciamo che per un periodo di 15 anni sono stata astinente dall'alcol e voi vi chiederete perché sono intervenuta in questa trasmissione, perché in questi 15 anni di astinenza dall'alcol io pesavo 52 kg e mi sono ritrovata a spostare la mia dipendenza dall'alcol alla dipendenza da cibo, per cui mangiavo a tutte le ore del giorno, della notte, nascondevo cibo, dolci, salati, insomma un po' di tutto nel comodino, nel cassetto del comò, nell'armadio della mia stanza da letto, per cui mangiavo anche di nascosto dal mio compagno e di nascosto anche dalle mie figlie, voglio dire, però insomma si vedeva perché poi da 52 kg sono diventata 120 kg, per cui insomma nel giro di poco meno di un anno aumentare di 70 kg era evidente che avevo dei disturbi di carattere alimentare, però il mio compagno non ci ha mai dato peso e neanch'io perché non mi ero resa conto di aver spostato la mia dipendenza dall'alcol al cibo, cioè io pensavo semplicemente di avere dei bisogni da soddisfare, di essere in cerca di alcune gratificazioni, nel frattempo sono diventata mamma di quattro figlie, per cui pensavo che questi miei bisogni fossero più che altro delle piccole gratificazioni che volevo concedermi dopo aver trascorso tutta la giornata stando appresso alle mie quattro bambine, insomma voi potete immaginare la difficoltà di crescere quattro figlie di due anni a distanza l'una dall'altra, per cui insomma non è stato facile per me, per cui ho confuso questo con una forma di gratificazione, invece poi quando sono ricaduta nell'alcol mi sono resa conto di non essere mai uscita veramente dal mio problema, che avevo semplicemente spostato la mia dipendenza dall'alcol al cibo, ma che i meccanismi che non funzionavano a me non erano mai stati risolti e quindi insomma adesso per farla breve è un anno e quattro mesi che sono qui al Kufrad e sono entrata qui al Kufrad che pesavo 60 kg e adesso ne peso 90, per cui ho nuovamente spostato la mia dipendenza dall'alcol al cibo. Ora io credo di aver risolto in parte questo problema qui al Kufrad, come? Spiego, io ho cambiato, ho fatto un cambio di gruppo perché nel gruppo dove ero prima facevo una vita molto solitaria, cioè non condividevo il mio tempo libero con i miei compagni di gruppo, non mi relazionavo con loro e per cui insomma da quando ho fatto questo cambiamento di gruppo ho imparato a capire che cosa veramente voleva dire far parte di un gruppo di persone con le quali condividere i propri problemi e da questo con grande fatica mi sono aperta, mi sono data totalmente al mio gruppo e praticamente attraverso questo scambo di esperienze mi sono veramente affezionata a questi ragazzi del mio nuovo gruppo e mi sento parte di un qualcosa e questo ha praticamente fatto scattare in me questa molla per cui io non mangio più con questa compulsione per la quale prima quando facevo parte dell'altro gruppo mi compravo tabolette di cioccolato che consumavo fuori pasto, mangiavo 30-40 biscotti al mattino a colazione nel latte, io non dico che adesso sono riuscita a dimagrire perché mentirei, però ho assolutamente un rapporto più sano nei confronti nel cibo nel senso che non ho più un rapporto colpulsivo, ossessivo come prima per il quale veramente tendevo ad accumulare di nuovo nascondendo nell'armadio tutte queste tabolette di cioccolato per cui poi in solitaria andavo a consumare una taboletta di cioccolato alla sera leggendo il libro e tendevo ad isolarmi dal resto del gruppo, per cui io ringrazio le operatrici del mio gruppo e i ragazzi che condividono con me il mio gruppo perché mi hanno dato veramente un motivo per cambiare il mio rapporto con il cibo, per cui adesso continuo a essere abbastanza golosa nel senso che se c'è una festa di compleanno e c'è una torta ovviamente io non mi tiro indietro, però ho smesso di cercare con compulsione il cibo dolce fuori orario, cioè adesso anche se la porta delle dispensa resta aperta io non mi avvicino mai né per cercare un biscotto fuori orario, non mangio neanche un frutto fuori orario, cioè mangio a pasto e se mangio carboidrati a mezzogiorno evito accuratamente di ingerire carboidrati la sera, mangio solo il secondo per esempio e quindi cerco di contenermi tutto qui e niente vi ringrazio per avermi ascoltato e se volete trovare le risposte potete trovarle soltanto scavando dentro di voi, trovando una soluzione alternativa, io parlo specialmente per le persone che hanno un comportamento compulsivo, ossessivo, come diceva prima Fabrizio, cioè quelli che fanno le grandi abbuffate e poi mantengono, incamberano tutte le calorie e il giorno dopo riprendono a mangiare con compulsività, io vi consiglio caldamente di trovare altre strategie per impegnare le vostre energie e per trovare delle gratificazioni alternative a quelle del cibo, perché più si va avanti con l'età e più poi si va incontro a delle malattie, io penso semplicemente alla glicemia alta che può portare un diabete, al colesterolo alto che può portare problemi al cuore e niente, non aggiungo altro e vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie alla signora Chiara, cari amici siamo in chiusura, allora vi ricordo il prossimo incontro col Cufrad, è previsto per giovedì 16 di luglio sempre alle 17.35, vi ricordo anche che potete vedere i luoghi del Cufrad sul sito www.cufrad.it, potete scriverci all'indirizzo info.cufrad.it oppure per posta a Cufrad, Somma Riva del Bosco, località Paolorio 2, 12.048 Somma Riva del Bosco, provincia di Cuneo, è sufficiente mettere questo indirizzo, vi ricordo anche che potete telefonare se avete piacere di parlare con gli psicologi del Cufrad per presentare situazioni di persone che avete piacere di aiutare e volete avere qualche consiglio, quindi potete chiamare direttamente alla sede centrale 0172 55294 e vi ripeto che se volete riascoltare la presente trasmissione o le precedenti del Cufrad è sufficiente che inviate un'e-mail a info.cufrad.it e vi invieremo il link al quale potete riascoltare la trasmissione. Grazie per essere stati con noi, vi invito a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Materi e col canto finale restituiamo la linea alla regia centrale. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Dalli studi di Radio Materi abbiamo trasmesso Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta dalla Cufrad di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà giovedì 16 sempre alle ore 17.35. Amare i ricchi che spesso sono i più poveri Amare chi non conosci Amarli come Dio Amarli come Dio Radio Mater La radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia